Namasplato cliente ho avvertito la tua aura prima ancora che posassi il tentacolo nella mia bottega purtroppo però non posso ancora venderti i miei articoli prima devi incanalare le tue energie in battaglia in modo da elevare il tuo spirito quando avrai raggiunto il livello 4 sarà in perfetta risonanza con l'unive... vaffa a culo allora! ora vai metti in atto il tuo potenziale sono sicuro che qualche mischia mollusca ti mostrerà scusa l'hai fatta così ma vaffanculo è qui no perché io l'ho visto così sembrava che stesse pisciando andiamo a fare ancora delle... permesso spatoon si ci si è dimenticato lei andiamo ancora... pony andiamo a fare ancora partita online dobbiamo arrivare alle 4 è avvenuto il miracolo c'è una nuova mappa che era quella dello splatfest che c'era e nella mia squadra abbiamo quasi tutti i stessi capelli splattiamo tutto ai muri non servo e vai... si muova lei però signora scusa non è che l'abbiamo arruolata nella nostra... è viola questo lilla quel colora che è per non fare un ca... bomba! ad ammazzarne uno con la bomba mamma mia guarda fanculo cacchio ho capito dopo che c'è anche lit marker dei danni uuuuuh minghia mi ha sciascia spattato tutta... no x x devo andare da questo è un po' pelo difficile fare questa cosa senza i sensori di movimento perchè si muove con l'altro analogico mentre... ti stai spostando di qua e di là diciamo non si capisce niente quanto è bello l'effetto della vernice sulla vernice dei nemici no... muori becca chi sta? e si va più lenti sull'altra vernice nemica però eh... ciò non va bene che poi sto qua che minghia ci fa da noi? eh che cacchio ci fa in casa nostra? minghia sto qua mi ha demolato yu yu de merda lo voglio anch'io il coso lo voglio anch'io il rullo si sposti piccione se no... la... la... impermeavo di vernice anche io eh... perchè io non mi faccio problemi per vincere eh... se te da da vernizzare anche i piccioni non mi faccio assolutamente problemi basta... farmi splattare cacchio ovviamente si usa anche il calamaro per... come corsa olè... per poi andare avanti ve l'ora di arrivare a livello 4 più o meno posso vedere se... si può acquistare qualche nuova arma proprio con l'h davanti mut mut che roba ah che paura non credevo che mi stesse venendo addosso qualcuno certo che... venire addosso con la vernice vabbè lasciamo perdere ah tutto qua scolorato colorato bruzzo proprio mamma mia fanculo uccidilo però xxxx entriamo qua da albatross volo da albatross ah capito volo da albatross vabbè coloriamo anche queste mezze cose che fanno sempre comodo lo piglio da dietro quello e fanculo ah mi avrà contato l'assist bomba un bombettino così tranqui aspetta fammi pitturare qua fermi abbiamo vinto noi e questa grande vittoria grande vittoria non so se sarò arrivato ancora prima con me nell'episodio precedente mi sa di no terzo sul via quanto ultimo buono poi ne ho splattati due o sono morti non si sa non si sa le statistiche strambe e si va alla prossima partita campus simpo campus che ormai sappiamo proprio a memoria oh un altro nuovo colore latti azzurrini poi è anche un pochino difficile capire che colore è è un rosa rosso un rosa salmone rosa fashion vogliamo pitturare perché poi da fastidio vedi tutta la base qua che non è colorata devi colorare tutto tipo tutta cosa qua pittura pittura qua non hai pitturato cosa di legno bene le buona qua non si può pitturare qua c'è tutto pitturabile perché sotto è già tutto affanculo io mi metto qua sopra e lancio le bombe eh ricarica troviamo anche gli alberi fanku e ricarico quanto ci c'è la la bomba c'è bisogno tantissimo di ricarica per lanzare la bomba no hanno splattato uno nostro e che dolore devo ricordare che ho l'armatura stracazzarola quanta gente mi è nata addosso pitturiamo qua i scatoloni quelli de della sda non mi veniva in mente l'altro ah ho sentito potente la morte vicino a me il tuo campus de merda che vengano nuove no bomba e mi ha splattato cazzarola allora di qua di qua di qua 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 in mezzo in mezzo c'è bisogno di mezzo era caduta la roba leh no 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 ok pitturiamo i blocchi de cemento che ovviamente servono tantissimo in mezzo ai campus affanculo bomba casissimo intanto mi stavo ammazzando ovviamente ah devo andare la sopra ah no che cacchio pitturo è cosa che non si pitturano dannazione si venga qua siamo nella base nemica e nessuno ci vede poi pitturiamo la bomba così intanto che ci siamo non fa mai male ah consuma quasi tutto la bombettina porca miseria ti sarebbe piaciuti ah ah non c'era la tua vernice non c'era la tua vernice coloriamo fuga però ah guarda tutto sto cacchio di azzurro lato ci stiamo e no via to aio ma splattato in una maniera brutalissima sto faccia da culo e insomma mi sa che questa devo lanciare una bomba dove c'è la bomba proprio nella parte più giusta la lanciare e forse abbiamo vinto infatti demoliti totalmente con questo incredibile lavoro di andare a rompere le balle nella base nemica siamo finiti ultimi ovviamente quando io credo di aver fatto una buonissima prestazione finiamo ultimi e poi chi se ne frega e ci sta un'altra partita dobbiamo arrivare a livello 4 certo siamo arancioni mi sono visto spoiler di che colore siamo sbam guardate siamo verdi no viola azzurro i blu colori strani che non si capisce anche perchè è tutto colorato sto gioco però non si capisce bene che cacchio di colori siano pitturiamo tutto qua tutto tutto non ci deve essere più niente di normale gli abitanti di sto campus si devono lamentare e c'è tutto sporco poi va bene non pitturiamo noi perchè sti cazzi ci passeranno quelli che lanciano le bombe d'acqua non me ne frega un cacchio meglio pitturo tutto il pitturabile guarda quanto è bella quella bicicletta qua arancia o bomba no non so pieno e infatti più della metà la bomba ciccia fuori eh più della metà buono a sapersi ok qua c'è tutto ancora da pitturello io non lo so due cose strane quanto è bello non vedo l'ora che mi arrivi il pro controllao sempre se la situazione lì delle robe strane si sia messa tutto a posto non ti preoccupare che penso mi qua lei va di avanti a fare le robe là anche perchè ci sono anche queste super lettere qua da poter spitturare tutte ci penso io proprio qua il viola sta malissimo le l'armatura la uso quando gacchio voglio io va bene anche perchè vuoi arrivare a livelli subito alti così almeno da poter fare anche le altre modalità e perchè qua non hanno pitturato loro perchè sono degli imbecilli non lo faccio l'antivirus va bene ecco da decenni che mi cicci fuori qua perchè eh basta te che hai rotto le balle armatura armature mi hanno ammazzato lo stesso vabbè che mi hanno fatto una gangbang 3 contro 1 però sti gazzi qua 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 vicino a qualcuno cazzo anche perchè li stiamo chiudendo culo a mammi da bomba e splatta qualcuno con la bomba no eh che cacchio gli stiamo chiudendo a respawn mamma mia è questa adesso me la tiro eh op me la tiro tantissimo ma è una incredibile vittoria io mi levo da qua perchè sti bastardi passano di qua olleh pitturiamo l'albero pitturiamo le scatole di Bartolini ecco non mi veniva pitturiamo i muri una bomba tattica la la bomba della vittoria che è caduta esattamente dove ci stava già l'arancio proprio perché sembra più che giusto bomba finale no sto viola sto coso sta male grande vittoria questa grandissima più del 60% oserei dire lo dico lo ammetto ed è infatti sì ma vabbè il 53 però abbiamo fatto il culo vedete ragazzi più che questo episodio vi sia piaciuto ci vediamo domani adesso sperando di essere arrivati al livello 4 siamo posizionati al terzo posto quelli tutti con il vaffanculo domani è l'episodio del livello 4 a domani